buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andiamo a vedere un tool andiamo a vedere un portale molto importante per chi è appassionato e per chi opera nel settore del non fungible token ovvero degli nft andiamo a vedere rarity tool è un portale utile perché oltre a andare individuare le varie collezioni che sono sul mercato e che arriveranno sul mercato con determinati parametri che vedremo meglio nel video ci va a indicare la rarità degli nft che vogliamo acquistare oppure degli nft che conteniamo all'interno nel nostro portafoglio andiamo a vedere come funziona rarity tool ovviamente dopo la sigla come sulla pagina ufficiale di rarity tools raggiungibile all'indirizzo rarity punto tools comunque vi lascerò come sempre il link in descrizione sostanzialmente che cosa ci permette di fare questo portale come se fosse un motore di ricerca dove ogni giorno vengono aggiunte nuove collezioni di nft e dove possiamo ricercare le collezioni passate e vedere anche le collezioni magari che stanno per arrivare sul mercato ma soprattutto a seconda dei parametri ben stabiliti di questo portale andare a capire la loro rarità e quindi andare a immaginarci un potenziale guadagno e darci uno strumento in più per poterci decidere se acquistare o meno un progetto nft partiamo dalla barra in alto nella barra in alto contiene delle scorciatoie come ad esempio l'account di twitter se volete seguirlo conta quasi 100 mila follower nel momento in cui sto registrando il video vi permette di vedere le collezioni in ordine per volume negli ultimi sette giorni le collezioni che stanno per arrivare e nella sezione new qua a destra avete cinque collezioni nft che sono appena stata listate all'interno di questo portale subito sotto abbiamo le nuove collezioni che sono state inserite dove già possiamo vedere alcuni dati la data di aggiunta al sito quali sono i proprietari quanti sono i proprietari di questi nft e il total volume cosa molto utile vi fa anche vedere in alto a destra su quale block chain sta girando attualmente l'infecchi la collezione che stiamo osservando correndo verso il basso passiamo dalle collezioni nuove e andiamo fino alle top collection e sono le migliori collezioni ad esempio per volume nella schermata di sinistra 7 dei volume abbiamo in ordine dal numero 1 al numero 10 le migliori collezioni in base al volume scambiato nelle ultime sette giorni a fianco abbiamo le top 10 collezioni in effetti per volume totale io adesso ancora abbiamo la classifica sempre dal primo al decimo posto per quanto riguarda stavolta il prezzo medio di vendita degli nft di quella collezione e più sotto ancora abbiamo la classifica sempre dalla prima la decima posizione delle collezioni nft col maggior numero di proprietari quindi abbiamo già una schermatura molto importante per alcuni parametri quindi il volume transato nelle sette giorni totale volume scambiato il prezzo medio di vendita degli nft e quanti proprietari ci sono quanti investitori ci sono in un determinato progetto subito sotto andiamo a vedere tutte le collezioni dove possiamo andare a ricercare tramite nome e ci sono alcuni parametri ovviamente cliccando su questi parametri possiamo modificare la classifica al nostro piacimento per l'appunto in base ai parametri che vogliamo selezionare i parametri in questione sono come abbiamo visto prima il volume negli ultimi sette giorni le vendite negli ultimi sette giorni quanti nft sono stati venduti negli ultimi sette giorni il volume da quando hanno listato il primo crypto punk era quando hanno inviato la collezione il le vendite il totale delle vendite da sempre da quando sono stati listati sul mercato poi abbiamo il prezzo medio nei sette giorni precedenti total supply quindi ovviamente quanti nft ci sono in circolazione di quel determinato progetto quanti sono i proprietari la percentuale degli owner quindi la percentuale dei proprietari che è dato dal numero dei proprietari diviso la total supply poi abbiamo la market cap in ethereum e la data in cui è stato aggiunto questo questa collezione all'interno di rarity tools ora andiamo a vedere ad esempio cripto punk noi siamo appassionati le cripto punk vogliamo acquistarli vogliamo andare a vedere la loro rarità e alcuni parametri oltre a quelle che abbiamo già visto quindi cosa facciamo clicchiamo su cripto punk e si apre questa schermata cosa vediamo una volta che siamo attarrati su questa schermata abbiamo ovviamente il nome della collezione la descrizione della collezione il sito internet originale le community in questo caso disco e twitter più a destra vediamo i dati che abbiamo visto nelle pagine precedenti possiamo più adesso a vedere l'intera collezione andare a vedere connette il nostro wallet per vedere le nostre collezioni in questo caso dei cripto punk e sotto abbiamo i total cripto punk che sono stati listati in ordine di rarity in base a delle caratteristiche ben precise questo ordine questa ricerca la possiamo anche cambiare tramite id oppure tra quelli listati di recente ma in questo caso lasciamo rarity quindi questa classifica viene creata da rarity tool in base a delle caratteristiche ben precise ci va a indicare quanto è raro quanto eventualmente prezioso le nfp che stiamo acquistando o le nfp presente nella nostra collezione uno dei parametri che va a selezionare la composizione dell'immagine quanti accessori a l'immagine delle nfp come ad esempio passiamo da una testa senza capelli e senza accessori un'altra faccia con un cappello è un orecchino un cappello e gli occhiali e così via quindi anche gli accessori e gli elementi vanno a comporre la rarità delle nfp cliccando ad esempio sul primo si apre questa schermata e troviamo il rarity score qua ci va a indicare quali sono tutte le caratteristiche che assegnano un punteggio di rarità al nostro effettivo le nfp che vogliamo comprare in più possiamo vederlo anche suo pensi direttamente o dall acquistare direttamente solo pensi qualora fosse in vendita tornando indietro possiamo andare a selezionare ad esempio il quinto il quinto per rarità e qua vediamo di nuovo gli stessi parametri che abbiamo visto precedentemente che abbiamo controllato il primo nfp per rarità con i diversi punteggi che vanno a formare questo score spostandoci sulla barra di sinistra possiamo andare ad accorciare le nostre ricerche tramite progetto lì di qualora avessimo nei video in effetti l'item dal minimo al massimo oppure altri filtri possiamo andare a selezionare a ricercare degli nfp in base ai filtri che ci interessano maggiormente un'altra ricerca importante tramite parametri che possiamo andare a vedere qua in alto a destra dove prima vi ho fatto vedere che si possono controllare tutta la collezione oppure le collezioni presenti nel nostro portafoglio ma abbiamo anche l'esplorazione tramite tratti somatici infatti vedete che vi ha diviso gli nfp cripto pan che in base anche ai tratti somatici questo vuol dire il primo alien vuol dire che in circolazione per quanto riguarda la pelle alien ci sono solo 9 nfp che possono contenere anziché contengono questo tratto somatico tenendo conto che cripto pan che hanno total supply di 10.000 nfp solo 9 hanno il tratto alien solo 24 hanno il tratto e 88 zombie e poi qua iniziano i tratti somatici anche i generi un pochino meno rari diciamo che il primo i primi due sono proprio quelli più rari in assoluto bene anche per oggi siamo arrivati alla fine del nostro consueto appuntamento e spero che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato utile mi raccomando tutti coloro che vogliano a supportare il mio lavoro e aiutarmi a crescere su youtube chiedo gentilmente di lasciarmi online che di condividere i miei video e se non siete iscritti di iscrivervi ovviamente al canale e anche la nostra community telegram dove trovate il link in descrizione vi ringrazio per il vostro tempo come sempre e ci vediamo presto ciao a tutti